La chiesa di Santa Maria del Borgo risale al 1517, ma fu terminata solo un secolo dopo. Nella Cappella Maggiore si trova un'immagine del crocefisso cinquecentesco. Secondo la tradizione è appartenuto a San Filippo Benizzi. Tra i preziosi dipinti si notano opere del Mastelletta, di Pietro Faccini e di Bartolomeo Cesi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS